Buongiorno, bentornati a TV Verità. Forse riconoscete l'ospite che abbiamo oggi, anzi più che l'ospite sarebbe veramente il padrone di casa, ma oggi lo intervistiamo perché vogliamo chiedergli un po' di cose su una vicenda che sta dividendo, l'ennesima vicenda che divide l'Italia, gli italiani, i partiti politici, che è ovviamente la questione israeliana, su cui sono arrivate diverse lettere anche alla verità, su cui sui social si continua a litigare, in ogni trasmissione ci sono sempre rappresentate le varie fazioni e il rischio è un po' quello di ritornare a riproporre il bar sport consueto, con chi stai, quale maglietta hai, la Palestina, Israele e cose di questo genere, sempre trascurando un po' l'approfondimento e la realtà dei fatti.